Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi venerdì 28 ottobre si venera San Simone. Iniziamo con la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani regionali con il centro edizione dedicata alla provincia di Pescara che apre con il terremoto. Sono viva grazie alla prima scossa. La pescarese Tiziana Taragoni era andata a visso nel paese dei genitori. In centropagina la fotonotizia, visso il dramma degli anziani e poi bimbo San Mala di meningite a manuppello. A quattro anni scatano i controlli nella scuola. Nelle cronache sale sul treno con due coltelli e panico allarme alla stazione di Pescara e ancora il maltempo blocca le ricerche del sub disperso il pescarese di 28 anni. Attacco in consiglio a Pescara Teodoro contro il sindaco, da te solo delusioni. E poi nel taglio basso si vincono i 163 milioni del superenalotto in Calabria. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti. Niente crepe nelle nostre scuole, le scosse non hanno fatto danni. Sindaco e provincia le riaprono. Stessa apertura per quanto riguarda la fotonotizia. E poi il bimbo colpito dalla meningite a Chieti profilassi per gli amichetti con cui ha giocato al megalò. Nelle cronache tir di arsenico scaricati il sabato mattina, fiume inquinato e poi in basto, ex carichieti in quattro chiedono un milione. Medico indagato per l'operaio ucciso con l'auto, l'incidente di Ripa in Ortona. Edizione dedicata alla provincia di Teramo. Vediamo terremoto, le scuole restano chiuse, case inagibili e sgomberi a Teramo, Valle Castellana e Montorio. Nelle cronache, Brucchi incassa la fiducia degli alleati per quanto riguarda la crisi in comune. In Giulianova il piano spiaggia è da rifare, contrasta la regione. In Val Vibrata, Tortoreto Cello che è al nuovo depuratore, ora si può fare nel taglio basso, licenziato autista della ASL, era stato condannato nel processo a Varrassi sull'auto blu. Ed ora, prima pagina dedicata invece a L'Aquila, sisma, controlli su scuole e ponti, nuove scosse e torna la paura alla notte nel centro di assistenza. Nelle cronache, grandi opere, arrestati padre e figlia in Avezzano. In L'Aquila, Baratelli, lavori a imprese locali per ricostruire questa l'intervista. In Sulmona, niente amante, uscivo solo per servizio, ha dichiarato così una persona per quanto riguarda il caso dell'assenteismo in comune. E poi ospedale, un caso di malaria, L'Aquila ha ricoverato un giovane bengalese, non è grave. Pagina dedicata ora, prima pagina, scusate, del messaggero, invece, sempre con il terremoto in apertura, crolli e sfollati. Il sisma ha colpito duro nel Terramano, danni rilevanti, centinaia di persone senza casa, autostrade, il ministero al gruppo Toto, interventi per la sicurezza, ormai indispensabili. Nel centro pagina vediamo la fotonotizia pescara anziana struncata dalla paura e poi l'emergenza meningite scatta la profilassi. In tutta la scuola Manopello, bimbo contagiato in ospedale, è stato anche nell'area giochi di un market. Vediamo ancora il report sulle piccole imprese, male l'Abruzzo, malissimo l'area Chietina e poi Gran Sasso, ragazza sparita da quattro giorni per quanto riguarda la notizia relativa alla provincia di L'Aquila. La città, il quotidiano della provincia di Teramo, in apertura il sisma, le scuole restano chiuse, le scosse e le verifiche ancora in corso convincono Teramo e tanti altri comuni a rinviare la riapertura. In centro pagina il crollo del soffitto in un appartamento nel Terramano. Piano fumoso per la tassa turistica, Giulianova si annuncia un programma di spesa triennale. In breve il caldaista è finito nel fosso, incidente mortale, quattro tecnici rinviati a giudizio. Sant'Omero, oro rosso, nel bosco c'era un tesoro. Asl di Teramo, licenziato l'ex autista di Varrassi. E poi una notizia sportiva, parla Mr. Nofri, Teramo, cancella quei maledetti 40 minuti contro l'Albino Leffe. Vediamo adesso i quotidiani nazionali, quindi passiamo alle notizie dal mondo. in La Repubblica, intanto che apre con il sisma, l'onda degli sfollati, così titola. Le nuove scosse sbriciolano, case e monumenti, il suolo si è abbassato di mezzo metro a Camerino. La paura e l'orgoglio, conviviamo con il terremoto, ma questo è il peggiore. E in centro pagina le fotonotizie vediamo il racconto. Noi e cento anni di paura con il vuoto sotto i piedi. E poi ancora l'analisi, si parla però delle elezioni estere. Poi la politica, Berlusconi va da Mattarella dopo due anni e un colloquio sul referendum. Nel taglio basso, superenalotto da record, Calabria con 3 euro, vince 163 milioni. E poi l'intervista a Mr. Microsoft, Bill Gates, i populismi fermano il progresso, ha detto. Il messaggero nazionale Odissea ha sfollato i primi aiuti. Oltre 4 mila senza tetto nei comuni marchigiani del terremoto. Niente tende subito tal sulla costa, ma c'è chi preferisce restare e dormire in auto. Ancora scosse ad Amatrice, crolla il Palazzo Rosso. E poi le notizie in breve per quanto riguarda la manovra, la risposta della Commissione, l'Italia e la UE, sisma ai migranti, eventi eccezionali da finanziare e poi l'intervista del Rio. Non lasceremo sole le famiglie, piano per la sicurezza del Paese. L'agguato sul pianerottolo delle vittime a Roma, strage di condominio, spara ai vicini, poi si uccide. Il Corriere della Sera, il viaggio di 5 mila sfollati, così il titolo in apertura sul terremoto, hotel e palestre per ospitare il senza tetto di Marche, Umbria e Lazio, Renzi stanziati. 40 milioni 600 casette per il sisma di agosto, ora la stima per gli ulteriori alloggi, la terra nel centro Italia continua a tremare. E poi la manovra lettera alla UE, le emergenze costano 9 miliardi, il presidente IMS, Boeri, rischio la sanatoria, le nuove pensioni, così corre il debito. Per quanto riguarda i concerti, caro biglietti, trucchi in rete e la storia in banca, l'eredità di Clara Agnelli. Passiamo al giornale, in apertura l'Italia che trema, ecco la mappa delle zone più a rischio, nelle Marche 500 scosse e 5 mila sfollati, ma in pochi possono dirsi al sicuro. E l'editoriale che titola, se nelle tragedie l'uomo riscopre il senso di Dio. E Renzi lascia senza soldi i pompieri, poi ancora Berlusconi, primo incontro con Mattarella, l'ultima balla del premier, veto su bilancio UE, ma non può l'incontro sul dopo referendum. E la mala giustizia, una tassa occulta da 640 milioni. Passiamo alla stampa, in apertura il terremoto scosse e crolli, migliaia di sfollati, evitati morti, ma abbiamo perso tutto, aiutateci Renzi promette, niente tende. Oltre 4 mila persone costrette a lasciare i paesi distrutti, ieri i primi viaggi sui bus verso gli hotel della costa. Ed ancora in centropagina vediamo i fronti dell'emergenza, ricostruire qui sarà inutile, noi non ce ne andremo. E salvo il manoscritto dell'infinito, giucchiese storiche campanili, si è attivata un'altra faglia, la terra tremerà per mesi. E la risposta vediamo sulla manovra, Roma chiede all'Europa un bonus da 7 miliardi e poi sui migranti, scontro Ungheria-Italia. Il tempo, il quotidiano indipendente in apertura, attenti a questi tre, guardatevi intorno, un assassino e altri due criminali in fuga da Re Bibbia, se li riconoscete chiamate il 112 in centropagina. Poi sul terremoto, la rivolta dei 3 mila sfollati, niente tendere, siamo qua, la terra trema ancora, distrutte chiese e opere d'arte, fra i terremotati di Marche e Umbria cresce la rabbia. E l'intervista alla Meloni, vince il no, poi mi candido. Alle primarie, la seconda vincita di sempre, supera nell'otto shock, incassa 163 milioni. E poi un sorpasso da Oscar Benigni, contromano e la patente è ritirata. Avvenire in apertura il fatto sfollati ma non soli, il centro Italia trema ancora, 5 mila fuori dalle case, il governo sanzia 40 milioni, Renzi non molliamo, ancora forti scosse, popolazione stremata. E sui migranti, ancora la strage senza fine, 97 morti nel barcone. Il fatto quotidiano, il PD fa campagna illegale per il sì con soldi pubblici, Seracchiani e il convegno senza parcondicio alla regione Friuli. La svolta torna B e sale al colle, voto no se vince Forza Italia, pronta per il governo. Quindi l'ex premier Berlusconi a colloquio con Mattarella. L'inchiesta grandi opere, così, Mr. Impregio gonfiava i costi da 18 a 61 milioni nelle carte, le pressioni per far lievitare la spesa dello Stato. Marche, nessuna tregua dal sisma di agosto, ora è il Finimondo e poi quei borghi gioiello dell'Italia di mezzo, a rischio estinzione. Andiamo avanti, libero, in apertura per battere Renzi al referendum, risorto De Mita. Vi racconto chi è stato il vecchio leader democristiano, 88 anni, da stasera va in tv per contrastare il premier sul sì alle riforme. E poi Silvio prega Mattarella, grazie a mia prima visita di Berlusconi al presidente che non voleva. In breve poi l'intervista su Bergoglio, Rattinger si sente ancora papa e vuol farlo sapere. Le colpe dei figli ricadono sui papà se sono famosi e ancora raggi contro lombardi. Le simpaticone si scambiano, vaffa, Roma va a fondo. Il manifesto, Casa Italia, Marche Umbria contano i danni del nuovo sisma, migliaia di sfollati dai paesi distrutti. E mentre la terra trema ancora, il governo stanzia 40 milioni per l'emergenza. Renzi a Camerino, non faremo tendopoli. Intanto, nella lettera inviata a Bruxelles, insiste, nessun passo indietro sulla manovra. Il città frena, il belgio trova l'intesa sul tratto UECanada, quindi frena ma non troppo, così il titolo. E all'interno vediamo migranti, in 150 muoiono sul canale di Sicilia e poi in Carolania, in Cina. Si domina il plenum, ora è il nudeo del partito Sharing Economy, rivolta per la Casa Sostenibile. Passiamo alla mattina, migliaia di sfollati in cerca di aiuto, così il titolo in apertura sul terremoto. Renzi subito il decreto sul terremoto, no alle tende. E i tesori distrutti, ma l'infinito è stato salvato. Questo è il focus del mattino, poi il reportage, la grande fuga degli universitari, domande e risposte dalle faglie al clima. Cosa dice la scienza? In centropagina le inchieste, la buona scuola è già zoppa, concorsi lenti, sop dei tar, certificati medici di massa, 85 mila cattedre scoperte. E la sfida, Iguain, faccio due gol, della non vado a Torino. Il presidente contro lo stadio, vietato ai tifosi, si accende Juventus-Napoli. Nel taglio basso, vediamo al maviva sciopera, bocciata la proposta dell'azienda, salario no al taglio. Il governo stop ai licenziamenti. E con tre euro sbanca il superenalotto a Vibo-Valenzia, vinti 163 milioni. La probabilità era uno su 622 milioni. La Gazzetta del Mezzogiorno, in apertura, il terremoto sfratta in teri borghi, inagibili numerosi centri storici, dei paesi colpiti, renti sul posto, l'Italia è più forte del sisma. E poi i migranti, altro naufragio e altri annegati nel Mediterraneo, sbarchi anche a Brindisi, boom, accampamenti a Parigi. E dopo oltre un anno e la seconda vincita di sempre, superenalotto, il voto con tre euro, indovinato il 6 da oltre 163 milioni di euro. Il secolo XIX, in apertura il dramma degli sfollati, più di 4 mila in fuga dai paesi, primi trasferimenti negli hotel sulla costa. Oltre 200 le scosse tra Marche e Umbria. Renzi no alle tende, stanziati 40 milioni. E la replica all'Unione Europea, Padoan, flessibilità per le emergenze. Servono 7 miliardi, dice, e sulle banche, crediti deteriorati, la BCE a Carige, piano da rifare. La corsa a sindaco, Totti Vinacci, cena a Genova, con vista sulle elezioni. E poi il ponte sullo stretto, mazzette nella cassaforte di un manager, terzo valico a rischio, commissariamento. E all'Umarzo, tradito dalle intercettazioni, decapitato, manette a nipote, in casa diceva, l'ho ammazzato. Passiamo all'unità, in apertura Europa, non voltarti dall'altra parte. La sicurezza di case e scuole e l'accoglienza dei migranti valgono più del rapporto deficit-PIL. Il governo, quelle spese fuori dal patto di stabilità, ma l'Ungheria dei muri attacca l'Italia. Terremoto dopo la paura, la sfida della ricostruzione, così titola la fotonotizia, l'occasione di casa Italia. E quella fotografia curda di un popolo sui tetti, all'interno, e poi il PD italico, un accordo vicino in 50.000 domani alla manifestazione. La verità, vediamo, la RAI è libera di sprecare per legge, così l'apertura del quotidiano La Verità. Nella finanziaria inserite due righe che esentano la TV di Stato dal contenimento delle spese. E questo è l'uomo che ci fa invadere il prefetto più odiato d'Italia, Morcone. Pignorabili conti correnti bancari, la legge di stabilità dà al fisco il potere di bloccare la liquidità di chi sgarra con i pagamenti. Anziché colpire grandi evasori, la norma rischia di mettere in ulteriore difficoltà gli imprenditori in crisi. E poi i signori di Roma. Caldagirone piange sul sogno olimpico, infranto dai grillini, re dei radiotaxi, in grado di bloccare capitale e governo. Controvento il sì degli avvocati, pagato con i crediti della formazione. E poi all'interno sono tornati i tempi in cui un duetto decideva sui giornali. Il boom dei locali in Spagna, ma la mafia a tavola fa sempre affari alla faccia di tutti i divieti europei. Ed ora ci fermiamo con la lettura dei quotidiani per l'appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. La seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa, entriamo all'interno dei quotidiani regionali dal centro. Vediamo, abbiamo visto la prima pagina, quindi all'interno, terremoto, l'incubo, la paura prosegue, lo sciamo infinito tra le Marche e l'Umbria per l'emergenza, 40 milioni. Gli sfollati, risveglio tra macerie e dramma, 5 mila senza case, ma restiamo qui, hanno detto. E l'angoscia a Camerino, l'Ateneo Modello adesso teme l'esodo, molti studenti scappano, lezioni sospese per i sopralluoghi, il rettore lavoriamo per riaprire entro una settimana. Il terremoto Labruzzo, sopralluoghi a Ponti e Dighe, si torna a scuola quasi ovunque, oggi studenti in classe nelle province di Chiti, L'Aquila, Pescara, ad eccezione di Penne. A Teramo invece è ancora stop, le attività didattiche riprendono solo mercoledì 2 novembre. Nel Taglio Basso l'Aquila una notte al centro operativo comunale, attenti ai messaggi social dei catastrofisti, decine di persone hanno trovato ristoro nella struttura e nelle altre aree d'accoglienza. Sul monolaboratorio per la sicurezza delle nostre città, il sottosegretario Mazzocca, il rischio sismico evidente, proviamo a intervenire partendo da scuole e ospedali. E poi ancora nel Taglio Basso, ora vanno costruiti ospedali a norma, Gian Felice della Nao, meglio realizzare nuove strutture piuttosto che fare interventi parziali e inutili, ha detto. Il terremoto, come proteggersi, la valutazione dei danni, perché si verificano terremoti in Italia, il territorio, un paese a rischio, serve prevenzione. Il presidente dei geologi, veduto, impossibile prevedere gli eventi sismici, necessari i piani pluriennali, case sicure e più informazioni ai cittadini. E ancora Amatrice, è crollato il Palazzo Rosso, era restato miracolosamente in piedi il 24 agosto, lo vedete nella foto tra le macerie, mentre è crollato con questo nuovo terremoto. A Rieti, scuole ancora chiuse. Ancora avanti, attualità in centropagina, supera l'otto record, uscito a Vibo Valencia, un 6 da 163 milioni, alla vincita si aggiungono altri 2 milioni per un 6 stella. Schedina, due pannelli, secondo premio più alto della storia. E a Roma, tre albanesi si calano dalla finestra e vadono dare bibbia col classico lenzuolo. A Genova, uomo decapitato, arrestato il nipote. Pagina dedicata alla Regione, l'economista eretico della D'Annunzio, l'euro è una religione, crederci è stato un errore. Alberto Bagnai, noi italiani siamo indebitati in una valuta che non controlliamo, l'ipotesi uscita, dicono che sarebbe un disastro, ma il disastro lo viviamo ora. E andiamo ancora avanti, vediamo Francesco, uno studente con qualità speciali, affetto da sindrome di Down, quest'anno si è iscritto all'Università di Chieti, facoltà di beni culturali e sta già preparando il secondo esame. Vediamo nel taglio basso, referendum PD, capogruppo Ettore Rosato, oggi a Pescara per l'appuntamento appunto sul referendum. Ancora Conad, Adriatico, oltre ai 500 milioni di fatturato Abruzzo, in Regione, 1.548 addetti in 133 punti vendita, ieri il via a Spoltore. Il dossier IDOS in Abruzzo, 86 mila stranieri residenti, record nell'Aquilano e il comando Legione Carabinieri Abruzzo e il prefetto Alecci alla caserma. E' infelisi. Passiamo alla notizia di economia, Padoan, ecco perché sforiamo sulla manovra, il governo risponde alla lettera della Unione, deficit più alto per terremoto e profughi. Pagina dedicata a Pescara, in apertura all'allarme, a Manopello, bimbo di 4 anni colpito da meningite, ricoverato a Chieti, all'uno della scuola dell'infanzia di Ripa Corbaria, al via, alla profilassi, anche per i piccoli incontrati a Megalò. Il sindaco De Luca è tutto sotto controllo, ha detto, e le famiglie vanno tranquillizzate, non sembra un caso di malattia contagiosa. Caso Soget, sospiri e mazzocca dal giudice, disposta la trascrizione, in 10 intercettazioni telefoniche, il 23 marzo la decisione sul rinvio a giudizio. E' il sisma nelle Marche, Pescarese avvisso, salva grazie alla prima scossa. Tiziana Tarragoni, nella foto, era tornata al paese dei genitori poche ore prima dei crolli. Verifiche a tappeto in tutto il Pescarese, ancora nessun danno a ponti e strade, la provincia controlla le scuole. E' riaperte le scuole, l'ingegnere, fidatevi dei tecnici esperti, De Flavis, bisogna fare attenzione alle crepe in diagonale, ma il sisma di mercoledì qui non ha avuto ripercussioni. E' muore a 88 anni, dopo il terremoto, l'anziana è uscita di casa, rientro era agitata, inutili i soccorsi del 118. Controlli approfonditi anche allo stadio, lente anche sull'antistadio Flacco, e ancora sempre in Pescara, anche l'Ateneo supera i controlli, mercoledì lezioni interrotte, da oggi si torna nelle aule, danni riparati a lingue. La tragedia di Giulianova, vediamo il maltempo ostacola, le ricerche del sub, nessuna traccia del farmacista pescarese disperso in mare, ritrovato il suo fucile, oggi sarà usato un robot di profondità. Lo vediamo nella foto, Matteo Cavarocchi, 28 anni, in un momento felice di questa estate, purtroppo ancora non si riesce a ritrovare, come detto anche dal titolo, quindi le ricerche sono state sospese. Ieri per il maltempo speriamo possano riprendere nella giornata odierna ricerche che si stanno effettuando. Sono dalla Capitaneria di Porto di Pescara, vediamo su questo articolo il contributo video. Ancora nessuna traccia del giovane pescarese disperso da oltre 24 ore a largo della cossa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, quando, durante un'emersione con un amico nei pressi della piattaforma per estrazione di gas, Squalo, il giovane non era più riemerso. L'amico, che si trovava con il giovane disperso, intorno alle 10 di ieri mattina, ha quindi lanciato l'allarme e sul posto sono subito scattati i soccorsi. Le ricerche sono durate per l'intera giornata di ieri, interrotte al tramonto e riprese stamani alle 8 sono state sospese dopo solo due ore per il maltempo. La sospensione è stata dettata dalle condizioni del mare, attualmente molto mosso, e riprenderanno appena possibile. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara, anche se la base operativa è stata allestita al porto di Giulianova. Ricerche in collaborazione con il corpo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i sommozzatori della Croce Rossa e un elicottero della Polizia. Il fondale, nella zona interessata dalle ricerche, è superiore ai 70 metri e per tale motivo si è reso necessario l'ausilio di una strumentazione apposita. Così, per proseguire le ricerche, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera hanno richiesto l'ausilio di attrezzature specifiche. Il nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un robot. Nelle prossime ore giungerà da Catanzaro un altro robot dotato di particolari sonar capaci di scandagliare al meglio i fondali, attrezzato con un ecodoppler con altro potere discriminante per la ricerca dei corpi. Tra le ipotesi, i due giovani pescatori si sarebbero immersi per effettuare attività di pesca subacquea. C'è il rischio, nel corso della battuta, che il disperso sia andato incontro a sincope anossica, uno dei pericoli della pesca in apnea, quando sparando ad una preda si rischia di essere trascinati oltre i 15 metri. Vi è infatti la possibilità che il subacqueo si trovi sul fondale, dato che il suo corpo, al momento dell'immersione, era zavorrato. Andiamo avanti, in centro pagina, un'operazione dei carabinieri della ASL, grasso e sporco in cucina, chiusa a gastronomia cinese a Pescara. Vediamo ancora la paura alla stazione, tra le cronache c'è un uomo armato, evacuato il treno dopo la segnalazione telefonica alla polizia, fa irruzione su un freccia bianca e ferma, 44enne in possesso di due coltelli. Muffa in casa, invalida, disperata, via dalla chiesa, 81enne in carrozzella, denuncia, nessun intervento del comune. Ed ancora, resa dei conti in consiglio, dopo il rimpasto, Teodoro, sindaco, 28 mesi di delusioni, duro attacco in aula, ma non passeremo all'opposizione. Questo è quanto è accaduto ieri, durante il consiglio comunale. Vediamo il contributo video di Francesca Romana Tessi su questo articolo. Era inevitabile, tutti, compreso il sindaco di Pescara, si aspettavano che il primo consiglio comunale, dopo l'ultimo rimpasto di giunta, che aveva visto allontanati tre assessori, iniziasse con qualche puntualizzazione, come quella dello zio di Veronica Teodoro, lei che da due anni sedeva di diritto sulle poltrone della giunta. Alessandrini apre la seduta con queste parole. La nostra comune convinzione che i problemi complessi con azioni di governo non possano e non debbano essere affrontati singolarmente. Ad intervenire subito è Pier Nicola Teodoro, che per otto lunghi minuti annovera le ragioni di dissenso verso l'allontanamento della nipote, voti compresi. Caro sindaco, che senza i voti della lista Teodoro, il centro-destra, unito sin dal primo turno, sarebbe stato avanti di un punto percentuale rispetto al centro-sinistra guidato da lei. La lista Teodoro ha contribuito in modo determinante alla vittoria del centro-sinistra, sia nella città di Pescara, nella provincia di Pescara e anche partecipando alla consultazione regionale. La necessità di rispettare con la lista Teodoro l'impegno assoluto davanti agli elettori, ma come brutto risenato, appugneranno alle spalle chi con lealtà, coraggio, gli ha consentito non solo di vincere le primarie di centro-sinistra, ma soprattutto di vincere le elezioni amministrative di 2014. A chiosa di Teodoro, che ricorda i principi della politica come quello delle alleanze, arriva il consigliere Forza Italia Marcello Antonelli, che ricorda a sua volta qualcosa a Teodoro. La faida dentro il PD ha ucciso, ovviamente, il collega Teodoro, i vasi di coccio. E i vasi di coccio sono le liste civiche. Avete contribuito alla vittoria di Alessandrini, eleggendo sei consigliere comunale. Continuate a sostenerlo, non avete, non solo loro, non avete rappresentanza in giunta. Non contate nulla. Quello che si decide di importante in questa città, si decide in altre stanze e in altri palazzi. E voi siete complici di questa situazione. Ed ancora in centro pagina vediamo un milione per turismo e pesca. Con i fondi europei in arrivo sarà realizzato anche il Museo del Mare. La presentazione in comune del progetto FIAG della costa di Pescara. Montesilvano, vediamo la prima pagina. Scalo ferroviario, la protesta, stazione inaccessibile, lavori mai cominciati, non c'è traccia. dell'avvio delle opere per abbattere le barriere e realizzare l'ascensore entro il 2017. Ferrante richiama i politici agli impegni assunti con RFI. E poi a Montesilvano, ispezionate tutte le scuole, oggi si torna in classe dopo le scosse sismiche di mercoledì. Sportello Urpo, un'altra chimera. Scaburri, da 15 anni, ha detto aspettiamo un servizio previsto solo sulla carta. Il taglio basso rassegna sulla Montesilva Nesità in 4.000 alla mostra di Agostinone. E' possibile gettare rifiuti dalle 15 alle 24, cili e gli orari sbagliati sui cassonetti. Un ponte dei Santi nei borghi con giochi e itinerari artistici, progetto di promozione turistico-culturale tra il Colle di Montesilvano e Città Sant'Angelo, lunedì caccia al tesoro. E poi il programma della Due Giorni nei centri storici, riportati dal centro. E a Pianella, invece, Marinelli d'Ambrosio ci ha riempito di debiti scontro sui canoni dei servizi cimiteriali. Oggi la conferenza del prof. Levino Flacco, come tenersi in forma nella terza età e ridurre i farmaci. Museo del Treno, raccolti 1.676 euro per i terremotati. Cimitero ai privati e i cittadini scelgono a chi intitolarlo. Francavilla, test di gradimento per decidere un nome tra Sant'Egidio, San Franco o il Santissimo Sacramento. E sempre a Francavilla, domenica piccola pesca in festa, da oggi al 2 novembre sconti nei ristoranti. Istituto Ivri, un'altra condanna, il giudice, comportamento antisindacale per gli iscritti Unitux a San Giovanni Teatino. Cepagatti, invece, domani in piazza, microchip gratuiti. Terremoto, penne, lesioni al convento nella biblioteca civica, ispezionati tutti gli edifici pubblici dopo le due forti scosse di mercoledì a Farindola. Il palatenda aperto anche di notte per chi vuole dormire fuori casa. E da ancora a Torre dei Passeri, domani, una cena di beneficenza al bocciodromo. Le ordinanze dei sindaci, ponte lungo per studenti e insegnanti nei centri vestini, si torna a scuola solo a Loreto. Penne, napoletano, uffici urbanistici allo sbando senza un dirigente, scafa, quasi ultimata la variante, sopra il luogo dei tecnici della provincia per i lavori sulla bretella della Tiburtina. A Santo Eufemia, festa per i 101 anni di nonna Angiolina Timperio. Pagina dedicata a Chieti, depuratore, l'arsenico sversato di sabato mattina. In apertura il 21 novembre del 2015, i tir arrivarono da Pisa, ma il laboratorio era chiuso. Uno degli indagati svela in retroscena durante un colloquio intercettato. A vasto rimborsi carichieti, in quattro chiedono un milione. Ripateatina, operaio travolto dall'auto, indagato medico di Ortona. In breve, nel taglio basso, le cene con Agnello e Bistecche, un momento di festa e solidarietà con i dipendenti, i quattro arrestati interrogati all'Aquila. L'Aquila in apertura sul mona, i furbetti del cartellino, ma quale amante, uscivo per servizio, nega tutto l'uomo cui la finanza, contesta incontri hot in orari di lavoro, gli impiegati. Siamo messi. All'agonia, hanno detto. È un caso di malaria al San Salvatore, ricoverato un giovane vengalese, il primario, presto sarà dimesso. Cerchio, inchiesta per corruzione, tedeschi pronto a lasciare. Ed ora passiamo alla pagina, scusate, alla pagina, all'edizione, scusate, al quotidiano della provincia di Teramo, la città, entriamo all'interno, alle pagine interne. Vediamo la pagina dedicata alle notizie regionali, eccoci, vediamo, abbiamo visto la prima pagina appunto della città, entriamo all'interno. Quindi pagina dedicata alla regione, come detto, in apertura terremoti collegati dallo stesso filo rosso, dopo le scosse di mercoledì sera, oltre 530 repliche, alcune avvertite distintamente in Abruzzo. I sismologi in azione, le due scosse di mercoledì causate dalla stessa faglia, oppure dall'attivazione di una seconda faglia, ma il fenomeno è stranoto ed è sempre lo stesso l'allargamento dell'Appennino nel centro Italia. Nel taglio basso, legge di stabilità, l'Unione Europea non si impunti sugli 0 virgola, il deputato Paolo Tancredi in commissione bilancio. Il terremoto nel Teramano, vediamo, si torna in classe mercoledì 2 novembre, tanti comuni hanno ordinato di prolungare la chiusura in vista dello sciame e per completare i controlli. Scuole chiuse fino a mercoledì a Teramo, Montorio, Tortoreto, Castellalto, Atri, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Notaresco, Isoa del Gran Sasso, Tossicia, Colledara, Cronia Leto, Rocca, Santa Maria e Campli. E invece scuole aperte da oggi negli altri comuni della provincia che non hanno emesso ordinanze specifiche. Su questa pagina dedicata appunto al terremoto nel Teramano ci fermiamo per vedere la lunga prima notte dei Teramani, un servizio di Tania Bonici Castelli intanto. A Teramo è tornata la paura del terremoto. Le scosse violente ed ondulatorie della serata di ieri hanno fatto riversare in strada tante persone, soprattutto nel centro storico della città. Molti hanno deciso di raggiungere le case del mare per passare la notte, intasando così le strade in direzione della costa. Altri invece hanno dormito in macchina nelle quattro aree di ammassamento predisposte dal comune, anche se il luogo più gettonato è stato come sempre Piazzale San Francesco. Com'è stata la situazione questa notte? Quanti Teramani hanno dormito fuori casa? Ma diversi Teramani hanno dormito fuori casa, tanti Teramani hanno preferito trasferirsi nelle case al mare dove magari il terremoto si sente meno. Tanti sono stati ospitati in centri di accoglienza. So che l'ospedale vetrinario ha ospitato 200 ragazzi dell'università e devo dire che la paura è stata tanta e i cittadini hanno preferito dormire con l'immacchina nelle quattro aree di accoglienza che noi abbiamo preparato a Teramo, a San Nicolò, a Colletterrato, alla Gammarana. C'è una paura, paura giustificata da questo sisma che è ripreso in maniera direi abbastanza prepotentemente. E se tanti Teramani hanno deciso di affrontare la notte post terremoto al mare o in macchina, tanti altri hanno razionalizzato la paura ed hanno scelto, convinti, di restare nelle proprie abitazioni. Lei ha scelto di dormire in casa o in macchina? In casa, naturalmente. Non ha avuto paura? Ovviamente la scossa di terremoto dà sempre un po' paura, però dopo si razionalizza. Siccome le recenti esperienze dell'Aquila, di Amatrice e quelle precedenti ci hanno insegnato che ci sono due scosse e poi ci sono degli sciami. Quindi se non è cascata con la scossa più forte nulla, intorno a te vuol dire che non cascherà nulla. Com'è andata questa notte di terremoto? Un po' di spavento all'inizio e dopo la nottata sul letto vestiti pronti per la fuga. Quindi lei ha scelto di dormire a casa? Sì, sì, sì. Anche perché è una casa abbastanza sicura. La famiglia? La famiglia, mia moglie dorme tranquilli, mio figlio è un po' spaventato, anche perché si deve sposare dopo domani. Voleva che il cacciava qualcosa addosso. Ed ancora vediamo a Teramo, il comitato scuole sicure torna all'attacco nel capoluogo. In due mesi non è stato fatto nulla per la sicurezza, niente tecnici, niente verifiche, niente polo scolastico, niente di niente, questa detta delle mamme infuriate, nell'incontro al provveditorato per le scuole. Lo vediamo nella foto. Poi ancora vediamo la casa inagibile a Valle Castellana e il soffitto sfondato in una casa di Viale Crispi a Teramo, quindi proprio nel centro della città. Danni su danni, evacuata una sola abitazione, come visto a Valle Castellana. Le nuove scosse hanno aggravato i danni di due mesi fa, dighe, ponti ed edifici pubblici per il momento non avrebbero subito problemi. Andiamo avanti, Brucchi, avanti anche senza Chiarini. Al tavolo politico si presentano tutti per la dichiarazione di fedeltà al sindaco prima del consiglio di giovedì. Quindi capitolo chiuso, l'assessore alla cultura Marco Chiarini, al di là del protocollo, non farà più parte della giunta del sindaco Brucchi. E questo per quanto riguarda la politica. Tornando indietro invece sulla sicurezza delle scuole appunto a livello provinciale, il presidente della provincia insieme ai tecnici, agli esperti, è sempre aggiornato grazie a un gruppo su WhatsApp. Vediamo. Le due forti scosse di terremoto che hanno sconvolto la Val Nerina nelle Marche e che hanno fatto ballare la popolazione abruzzese, spaventando la morte ancora una volta, non hanno provocato però particolari danni ad edifici e persone. Nel Terramano la situazione della viabilità provinciale delle scuole è sotto controllo e tutto sembra essere a posto. Sono stati accertati dei crolli solo a Valle Castellana e Torricella, ma i sindaci assicurano che si tratta di case pericolanti e non abitate. Il monitoraggio è continuo e dettagliato grazie anche al gruppo WhatsApp dei tecnici della provincia di Terramo da questa notte su strada e che aggiornano il presidente di Sabatino in tempo reale. Noi già da ieri sera abbiamo monitorato la situazione delle strade. Volevamo anche farla sulle scuole, poi con la chiusura di tutte le scuole per oggi abbiamo rivandato a stamattina. Allo Stato non abbiamo grosse difficoltà e problematiche nelle scuole, siamo partiti dalle verifiche di quelle che avevano avuto danni dopo il sisma del 24 agosto, invece non ci sono stati ulteriori ripercussioni, anzi quelle opere che avevamo fatto hanno retto benissimo, come al Delfico. Adesso stiamo andando sul territorio della provincia per quanto riguarda le scuole, in questo momento i tecnici della provincia sono a Roseto e non mi segnalano danni dalla scossa di ieri sera. In più, l'importante, noi facciamo un'opera di monitoraggio ad ogni sisma dei ponti, quantomeno dei ponti un po' più datati e di quelli che hanno avuto bisogno e avrebbero ancora bisogno di ulteriori interventi. Lei è informatissimo, ma ha un segreto, ha un gruppo Whatsapp. Io ho un gruppo Whatsapp insieme a molti ingegneri, geometri e anche amministrativi che si occupano della situazione della viabilità e dell'edilizia scolastica, quindi riusciamo a comunicare tutti in tempo reale, per cui tutte le notizie che le sto dando in realtà io le sto acquisendo attraverso questo nuovo mezzo di comunicazione. Andiamo ancora avanti adesso, sempre dalla città, tra le cronache, quattro a processo per la morte del caldaista, dirigenti e tecnici della provincia rinviati a giudizio per la carenza di protezioni sulla strada di Aprati. Omicidio colposo, questa è l'accusa formulata dal PM Andrea De Feis nei confronti dei tecnici e dei dirigenti provinciali. Queste le operazioni nella foto di recupero dell'auto di Carginari sotto il caldaista Terramano che ha perso la vita. Il programma poi a Teramo star bene nonostante il terremoto. Due giorni al Parco della Scienza, sabato e domenica gli appuntamenti dedicati ai ragazzi, famiglie e anziani con Psiche, CSV e Comune di Teramo. Andiamo avanti ancora, gli stati generali del cyberbullismo, core come ordine dei giornalisti a convegno sulla tutela dei minori nei media. A destra il presidente del core, come lo vediamo, Filippo Luci. Poi giudiziaria, licenziato l'ex autista del manager Varrassi. Ancora avanti, vediamo provincia, sub disperso, mare grosso, ricerche impossibili, onde alte e forte vento hanno impedito alle squadre, come abbiamo visto prima, le squadre dei sommozzatori, di entrare in azione. Navigazione e pesca sono interdette nel tratto di mare, 500 metri attorno alla piattaforma di ricerca dei idrocarburi per motivi di sicurezza. I due pescatori non potevano immergersi in quel punto dell'Adriatico. Questo poi è emerso. Vediamo ancora avanti, trovato un tesoro d'oro rosso nel bosco. Il recupero dei cavi lo vediamo nella foto da parte degli agenti della squadra della stradale e della mobile. La polizia recupera 25 quintali di cavi in rame lungo la bonifica del salinello. La segnalazione in rame è stato segnalato da un cittadino che passeggiava nella zona. E a Martinsicuro nessuna presa di posizione sul referendum costituzionale. Così Paolo Camaioni, il primo cittadino di Martinsicuro. Corropoli, liceo aeronatico, consegna 42 borse di studio. Sant'Egidio, anniversario dal record per il giro delle cantine. Oltre 90 cavalieri hanno partecipato alla passeggiata lungo la Val Vibrata. Programma fumoso per la tassa turistica. Giulianova, il Comune annuncia un piano triennale ma svela solo pochi contenuti. L'opposizione aveva chiesto di utilizzare i fondi per i lavori di ordinaria manutenzione. Cronaca, spacciava mentre era ai domiciliari, Giuliese torna in carcere. Appuntamento poi con la spiritualità e l'arte al Museo dello Splendore Sociale. Povertà estrema, numeri in costante crescita. In 80 rispondono al bando di inclusione finanziato dalla Fondazione Tercas a Giulianova. Silvi, piano regolatore approvato entro novembre. Pronti i tabulati da consegnare ai consiglieri per la consultazione. Poi il passaggio in consiglio. Il regolamento, c'è chi pensa ad un regolamento ferreo per cercare di evitare altre modifiche. Roseto degli Abruzzi a Montesilvano. Sono i funerali dell'ex sindaco Pio Dilario e sempre a Roseto. Due giorni dedicati al mondo del cacao previsti per sabato e domenica in piazza. Ad Atri i detenuti collaborano all'evento per le zone terremotate sabato e domenica. La manifestazione solidale dell'Associazione Fontanelle e degli Alpini. Cultura, vediamo, per una testimonianza del padre. Un cammino nella psicoanalisi. In libreria la raccolta di saggi di Re Calcati. Ed ora torniamo al messaggero per vedere le pagine interne. Magari le prime pagine dedicate alle quattro province. Entriamo intanto all'interno del messaggero, edizione dedicata alla regione Abruzzo. Quindi passiamo direttamente alla prima pagina dedicata alla regione. Abbiamo visto la prima pagina, quindi entriamo direttamente all'interno. vediamo, si parla del terremoto, quindi subito dopo la prima pagina che abbiamo visto in apertura. quindi terramo, crolli e sfollati. Il sisma fa fuggire gli studenti universitari. Autostrade dal ministero direttive a Toto. Interventi per la sicurezza indispensabili. E poi il terremoto dighe e invasi idrici. Controlli ok. Questa mattina si torna a scuola. Pagina dedicata a Pescara. Terremoto, anziana morta di paura. L'abbiamo visto, ed Elia Volta al Torni era scesa in strada con i familiari dopo la scossa delle 21.18. Era agitata nella notte l'infarto fatale. E l'inchiesta, grandi appalti, le telefonate che accusano. Il tecnico pescaresi è arrestato al centro dello scambio di informazioni tra i componenti dell'associazione. Fuga dall'ospedale. Gli adauci colpi della paziente ricoverata. Il sub scomparso in mare, un robot setaccia il fondale. E poi lo scandalo Soget, acquisite le telefonate. E l'orchestra criminale al Colonna per quanto riguarda il c'è da fare del messaggero. Un caso di meningite a manoppello. Abbiamo visto l'emergenza. E poi no alla buona scuola. Nastrini rossi protestano a Bari. Stazione blindata. C'è gente armata sul treno. Panico per l'allarme di un folle. Il programma Arte Boncibo. Tour tra le eccellenze per celebrare l'Open Day Winter. E il sondaggio. Cimitero. Le pagelle dei parenti defunti. Pagina dedicata all'Aquila. Apre dal messaggero con traffico. SS Asfalti. Trappola. Niente soldi per le buche. Vediamo l'apertura invece della pagina dedicata a Chieti. Indagato per omicidio stradale. Il medico che ha falciato l'operaio. Pagina dedicata a Teramo. Chiarini conferma le dimissioni. Brucchi. Non lo sostituirò. Ha detto. Il vertice con i consiglieri di Futuro In. Dopo i mancati numeri sul bilancio. Il sindaco terrà le deleghe per sé. O le spalmerà sui membri della giunta. Ha detto. Quindi. Non sarà appunto sostituito l'assessore alla cultura. Da Abruzzo Sport invece vediamo. Pescara. I limiti da superare così il titolo. L'analisi di Forna si è. Non siamo ancora all'altezza. Ma la partita contro l'Atalanta doveva essere sospesa. Crotone. Empoli e Palermo hanno gli stessi problemi. Bisogna tornare a remare dalla stessa parte. con il gioco. Le crepe dell'Adriatico di Odati. Subito controlli approfonditi per quanto riguarda lo stadio. E poi il notiziario. Campagnaro salta. San Siro. Tocca a coda. Niente da fare per Verre in mediana. L'ex attaccante protagonista in B parte dalla panchina. E poi c'è la Lega Pro. Vediamo il Teramo Nofri. che dice Teramo. Nessuna divisione nello spogliatoio. La serie D. L'Aquila. Tess con i baby. Ma Mincleri è in dubbio. E poi in centropagina. Vediamo. Ci vuole il fisico. Così il titolo di coda. Miss Monica. L'abruzzese prima pro del wrestling. Monica Passeri. Da Caprara allo sport più famoso del mondo. È stata battuta nel debutto della leggendaria Nia Egliaks. e nel taglio basso per quanto riguarda la serie D. Fazio è subito del Pineto e domenica sarà titolare. Questo per quanto riguarda lo sport. Così termina la nostra rassegna stampa. E quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione.